Giulia Salemi e pretelli, nervi tesi. Non si sono sentiti per giorni. C'è davvero aria di crisi fra i prelemi. Ecco cosa si vocifera online rispetto alla celebre coppia nata al GFVIP. Aggiornamento. Al GFVIP. Nella puntata di lunedì 13 febbraio, Giulia Salemi ha confermato che sta vivendo una profonda crisi con pretelli. Qui l'articolo di approfondimento. C'è davvero aria di crisi fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Per il momento una risposta definitiva a questa domanda non c'è, ma sono ad ogni modo emersi nelle scorse ore diversi spinosi dettagli riguardo ad una delle coppie apparentemente più solide dello showbiz italiano. Non è dato sapere come sia nato il pettegolezzo, ma negli ultimi giorni via social, su Twitter, in modo particolare. Si è parlato di un presunto tradimento di Pierpaolo Pretelli ai danni di Giulia, una scappatella, che avrebbe alzato e di molto il livello di nervosismo all'interno della coppia. Si è persino parlato di corna con solei, bianca guaccero o addirittura con un uomo. Ma è chiaro che si tratta soltanto di gossips piccioli senza alcun fondamento di realtà. Qual è dunque la verità rispetto agli attuali rapporti fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? A rispondere a questa domanda è stato Alessandro Rosica, H. Investigatore Social su Instagram. Con una stories pubblicata poche ore fa, Rosica ha confermato che nei giorni scorsi il clima fra i due non è stato dei migliori. Tuttavia, dopo un po' di tensione, sarebbe finalmente tornato il sereno. Rosica, inoltre, ha smentito qualunque possibile voce legata ad un tradimento. Qui le parole dell'eserto di Gossip, che tra l'altro è molto legato alla mamma di Giulia, Fariba. Avevano litigato e non si sono sentiti per qualche giorno. Nessun tradimento o roba del genere. Ieri hanno finalmente fatto pace. Fonte ufficiale, 100%. Resteranno delusi tutti i fan dei prelemi che avrebbero voluto saperne qualcosa di più sui motivi del loro litigio, che a questo punto resteranno segreti. Quel che più conta, in ogni caso, è che la coppia sia solida oggi come prima. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La loro ultima intervista insieme. L'ultima volta in ordine di tempo che il pubblico televisivo ha visto i due insieme è stato lo scorso 8 gennaio, in occasione di un'intervista esclusiva che i due hanno concesso a Silvia Toffanina Verissimo. Ospiti del salotto di Canale 5, i prelemi hanno parlato del loro rapporto, ricevendo come da copione le classiche domande su matrimonio e figli in arrivo. Sotto pressing della Toffanin, Pierpaolo ha ammesso, fra il serio e il faceto, di aver pensato per la prima volta alle nozze proprio nello studio di Cologno Munzese. La verità è che, come precisato da Giulia, una proposta vera e propria non è in realtà mai arrivata. Anche per quanto riguarda i figli, inoltre, bisognerà aspettare.